Buongiorno a tutti. Io e Serena lavoriamo su temi di arte, cultura e società da più di dieci anni. Come regola generale abbiamo quello di intervenire sempre rigorosamente in ordine alfabetico, per cui comincerò io presentandomi, poi ti presenti. Io ho insegnato per 40 anni all'università circa, più o meno, e sono felicemente in pensione dal 2013. Quindi ho molto tempo libero ed è forse per questo che lavoro, scrivo, eccetera, di questi argomenti. Serena insegna all'Accademia di Belle Arti di Palermo, dopo aver lavorato a Genova, è fondamentalmente videoartista, illustratrice, eccetera. Quindi io e lei insieme cerchiamo di gettare sulle questioni artistiche in senso lato uno sguardo, diciamo così, incrociato. Il mio è di tipo più sociologico-antropologico e il suo invece è interno. Da questa interazione, o fusione, voglio dire, si nasce un po' la nostra collaborazione e soprattutto il nostro interesse per l'arte. Allora, veniamo al tema arte, potere e innovazione. Direi che comincio con un episodio, la cosa forse migliore è entrare direttamente in tema. Intorno alla fine del 990 d.C., un prelato, non direi italiano perché allora il concetto di Italia era molto discutibile, un prelato di origine longobarda che era consigliere del re Berengaglio II, fu inviato a Bisanzio in una missione diplomatica. Partì da Venezia e dopo circa quattro settimane a cavallo, in barca, in nave, eccetera, approdò a Bisanzio, dove fu ricevuto dall'imperatore Costantino VII Porfiro Genito, cioè nato in una stanza rossa, con il quale iniziò la sua missione. Dire fu ricevuto è un modo di dire un po' obbligativo, perché in realtà questo prelato di origine longobarda fu portato in un palazzo dal curioso nome di Magnaura, che poi voleva dire probabilmente un palazzo dalla grande aura, un palazzo sacro. fu introdotto in questo palazzo nella sala dei ricevimenti, interamente ricoperta di marmo, e poi ti assiste a uno spettacolo per quell'epoca abbastanza notevole, e cioè mentre alcuni uccelli meccanici si libravano in aria e scendevano dei profumi, dall'alto, dal soffitto che era estremamente alto, fu calato un trono mobile su cui erano seduti l'imperatore, la moglie e i figli. Quando questa piattaforma su cui erano appoggiati i troni scese fino all'altezza del prelato, i ciambellani presentarono, eccetera, e cominciarono i discorsi. La cosa interessante è perché in quell'epoca, stiamo parlando poco prima dell'anno 1000, i regni romano-germanici occidentali non erano assolutamente abituati a questo tipo di spettacolo, cioè non erano assolutamente abituati alla pompa. Bisanzio, da questo punto di vista, riprendeva ampiamente la tradizione romana del potere che si ammantava, del potere della gloria, del potere che metteva in scena grandi spettacoli, eccetera. E nelle sue memorie, nelle memorie di questo viaggio, Gliutprando, questo era il nome del prelato, ironizza molto, cioè non prendevano molto sul serio tutte queste cose, come poi sarebbe successo un secolo dopo, all'inizio della prima crociata, si avrebbero subito scoppiati i conflitti tra gli occidentali, cioè i romani, come venivano chiamati, occidentali e i bizantini, proprio per questo conflitto tra un mondo militarizzato, abituato alla violenza, un mondo povero come quello occidentale, e un mondo invece estremamente ricco e pieno di pompa, come quello bizantino. L'episodio ci interessa, e noi con questo episodio iniziamo un nostro libro, proprio sul rapporto tra arte e potere, perché rappresenta molto bene un momento caratteristico delle relazioni tra potere e arte, cioè quando il potere, il potere imperiale, si ammanta, non si limita a essere esercitato, ma ha bisogno proprio di rappresentarsi, di creare una sorta di doppio rappresentato per influenzare non solo i sudditi, ma anche gli altri potentati. Ecco, questa relazione, questo modo del potere di presentarsi, caratterizza in fondo l'intera tradizione a cui noi siamo molto legati, cioè greco-romana e poi occidentali, in ogni epoca, partendo appunto dall'acropoli e quindi dalla rappresentazione del potere politico della polis nel punto più alto di Atene, fino a tempi recentissimi, i potenti, quindi sia di origine democratica che regali, dittatori, eccetera, e gli artisti in qualche misura collaborano. C'è un'interazione di cui appunto io dirò qualcosa all'inizio, mentre poi Serena interverrà soprattutto sul tema del cambiamento artistico e dell'innovazione. Si tratta di una relazione fondamentalmente duplice, cioè una relazione di reciprocità, perché da una parte il potere ama molto circondarsi di questa che con Benjamin, e ricordando il nome del Palazzo di Bisanzio, chiamiamo Aura, l'Aura è l'alone di sacralità che circondi in ogni momento o che dovrebbe circondare il potere. Se voi pensate in questa stravagantissima campagna prima elettorale, poi formazione del governo, ogni volta che, sto parlando di oggi, del nostro bizzarro paese, ogni volta che il Presidente del Consiglio incaricato o ancora prima i segretari di partite incontrano il Presidente della Repubblica, avrete notato in televisione come sono preceduti o da un ammiraglio in alto uniforme o da un generale, eccetera. E sempre sono incorniciati tra corazzieri. Non ci sarebbe assolutamente bisogno di tutto questo, ovviamente. Queste forme sono puramente rituali e simboliche. Qual è il loro significato? Il significato è ricordare, anche se poi nessuno immagino dei politici col letto sbottonato ci pensa, di rappresentare il fatto che si tratta di un luogo centrale del potere che quindi in qualche modo mantiene delle tracce di sacralità. Quindi da una parte abbiamo il potere che si circonda di sacralità, di aura, eccetera. E dall'altra abbiamo gli artisti che in ogni epoca, prima naturalmente non li chiameremo artisti, ma li chiameremo artigiani, artieri o quello che volete, che collaborano in qualche misura con il potere. Questo lo dico subito per mettere in discussione questa vulgata abbastanza stravagante secondo cui in ogni epoca l'artista sarebbe un genio disperato o comunque innovatore che inevitabilmente prende posizione contro il potere. Questa è un'immagine romantica che è nata probabilmente intorno alla fine del XVIII secolo con la teoria del genio di Kant e poi è stata ripresa successivamente all'inizio dell'Ottocento. Un'immagine romantica che però stride vigorosamente con la realtà. Dunque, all'inizio quindi c'è questa relazione tra il potere imperiale, il potere politico, eccetera, e chi. A Bisanzio, riprendo e poi chiudo con questo esempio, a Bisanzio gli artigiani che avevano costruito sia gli uccelli meccanici che il trono discendente, eccetera, in realtà erano schiavi, erano servi che alloggiavano nei bassi fondi del palazzo delle Blacherne, che era il palazzo più importante di Bisanzio, erano incatenati al loro lavoro e quindi erano costretti, come dire, con la loro abilità di lavorare per il potere senza ottenere niente in cambio. E questa realtà con alcuni momenti naturalmente di liberazione, eccetera, è la realtà che permane fino in fondo fino all'umanesimo. cioè quando, anche se gli artigiani alla fine del Medioevo cominciano a liberarsi, a organizzarsi in corporazioni, però restano pur sempre in una posizione semiservile. Io vi ricordo che nell'antica Grecia i pittori, i scultori, eccetera, a malapena si emancipavano dalla condizione di servi. Ebbene, fino ai primi decenni del XV secolo e quindi alla nascita convenzionale dell'umanesimo, gli artigiani, quelli che lavorano per il potere, quindi per il potere ecclesiastico, per il potere del re o per il potere dell'imperatore, si emancipano naturalmente dalla condizione servile ma restano in una posizione subordinata. Ora io non voglio annoiarvi con queste storie che peraltro sono abbastanza note, mi limito solo a dire che con figure come Leonardo, Michelangelo, Raffaello, con tutte le loro differenze, eccetera, che emerge chi? Emerge l'artista come grande figura individuale che si libera di che cosa? Si libera del ruolo servile e si libera anche soprattutto della presenza leggermente asfissiante delle corporazioni. Tenete conto che le corporazioni artistiche in quest'epoca venivano organizzate in base a criteri che oggi semano strani, per esempio i pittori in quanto gente che lavorava con le terre e quindi con sostanze naturali, eccetera, i pittori erano nella stessa corporazione dei chimici, dei farmacisti e quindi erano nella corporazione degli speziali. Ora, da questa realtà che appunto sa molto di Medioevo, eccetera, si liberano leggermente gli artisti e voi leggendo le opere di personaggi come Leonardo e Michelangelo vedete emergere proprio queste figure individuali che si liberano e si vogliono presentare al mondo come in un certo senso quasi sullo stesso piano dei loro committenti e dei potenti vi ricorderete che c'è il celebre episodio della RIS non della RIS insomma del duro confronto tra Michelangelo e Papa Giulio II credo a proposito della Cappella Sistina vi ricorderete che a un certo punto il Papa esasperato dal rifiuti di Michelangelo gli sferra un pugno che gli rompe il naso nei ritratti di Michelangelo si vede questo naso questo è un episodio che ovviamente descrive la subordinazione ancora in questa epoca al potere del genere artistico ma paradossalmente rappresenta anche in qualche modo la loro parità cioè il Papa benché all'epoca i Papi fossero guerrieri quindi probabilmente gliel'ha dato col guanto ferrato visto l'effetto ma comunque visto però esprime anche una sorta di intimità se mi perdonate l'espressione cioè di relazione diretta tra il committente eccetera questo almeno in un paese come l'Italia in cui i committenti dell'arte all'epoca erano appunto o la chiesa oppure grandi mecenati come i medici e personaggi del genere nel mondo scusate nel mondo nordico che invece scopre molto prima che in crono mediterraneo diciamo così i vantaggi di un certo tipo di liberalismo di mercato le relazioni sono molto più complicate e gli artisti Rembrandt lo scoprirà sulla sua pelle invece sono più legati a una a una realtà in cui ci sono in cui potenti sono molto più diffusi possono essere i notabili di una città eccetera in ogni modo in questa epoca emerge quindi questa figura fondamentale che è l'artista l'artista come genio questa è la visione che è la storia dell'estetica la filosofia tramanda di questi personaggi noi che io in particolare sono un tipo più modesto empirico direi emerge la figura del produttore di se stesso cioè dell'artista il quale entra sul mercato dotato sul mercato o della committenza dei potenti o sul mercato diffuso dell'arte entra come qualcuno che vende un prodotto unico e proprio per questo fatto è visto ed è rappresentato come una figura eccezionale io parlo così per rapidità e semplicità di pittori ma lo stesso discorso vale in un certo senso per l'arte in generale cioè vale per per gli scrittori emerge in questa epoca tra il 1500 e il 1600 la figura dello scrittore come genio indipendente il quale si ha un rapporto come dire complesso e dialettico con la società e vale cioè per qualunque tipo di produttore di che cosa produttore di aura ora voi capite bene come l'aura cioè la sacralità che circonda una statua di Michelangelo è ben diversa da quella di un libro che veniva all'epoca che cominciava a essere stampato però tenete conto appunto che all'inizio anche i libri vengono stampati in poche centenia di copie quindi mantengono in qualche misura l'aura dello scrittore tutte queste figure che siano il pittore lo scultore l'architetto soprattutto o il grande intellettuale eccetera si liberano progressivamente appunto delle relazioni pesanti con le società di provenienza e si affermano come che cosa come talenti individuali ripeto nasce in questa lunga fase che io semplifico in modo quasi parodistico ma insomma nasce in questa fase l'idea del genio artistico come il genio indipendente il quale Michelangelo nel cinema hollywoodiano vi ricorderete è il tormento elestras mi pare che si chiamasse se fosse il titolo italiano di un filmaccio era il pessimo Charlton Heston che faceva Michelangelo con Barbone l'idea del talento individuale il quale non solo lavora inevitabilmente per i potenti perché sono loro che lo foraggiano e soprattutto li finanziano opere estremamente costose ma nasce in questo momento anche l'idea dell'artista il quale si contrappone il potere in questa relazione appunto che ho esemplificato prima con i rapporti burrascosi tra Michelangelo e il Papa adesso permettetemi di fare un salto spazio-temporale spaziale no ma temporale veramente radicale ma questa storia di Michelangelo come dire ci introduce alle relazioni contemporanee vedrete perché contemporanee tra arte e potere guardo perché tra arte e potere perché perché voi in quanto toscani immagino per lo più ve lo ricorderete mi pare nel 2008 o nel 2009 la loro sindaco di Firenze Matteo Renzi fu responsabile di un paio di iniziative sensazionali in campo artistico la prima iniziativa fu il tentativo di terminare con il marmo la facciata del dono di San Lorenzo di Firenze che come sapete non è terminata e quindi ancora in mattoni crudi un'iniziativa abbastanza stravagante che fu subito stoppata dalla rivolta di tutti gli esperti d'arte mondiale e che Renzi devo dire con un colpo di genio assoluto propose di farlo in plastica rimovibile che dovesse in qualche modo creare una sorta di tromple di immagine fasula anche questa cadde l'altra cosa estremamente interessante che dimostra e Renzi ha anche scritto un libro sull'arte sul rapporto tra se stesso e la grande arte rinascimentale il secondo episodio estremamente interessante che collega appunto il rinascimento e Michelangelo con il mondo contemporaneo è la famosa faccenda dell'affresco la battaglia di Anghiari di Leonardo nel 1503 o 1504 non mi ricordo ma non sono mai stato troppo forte in date la signoria di Firenze incaricò i due più grandi pittori dell'epoca o considerati tali che erano Leonardo e Michelangelo li diede a loro l'incarico di raffigurare la battaglia di Anghiari una battaglia di poco conto Machiavelli dice che Anghiari morì solo un cavaliere probabilmente morirono alcune decine di pedoni ma insomma non era una gran battaglia tra fiorentini e milanesi in cui i fiorentini la vinsero e allora la signoria qualche anno dopo decise di tramandare questo episodio affidando due supermer artisti l'incarico di affrescare il salone di 500 di Palazzo della Signoria Leonardo che era un lavoratore indefesso finì rapidamente la sua opera ma utilizzò un sistema arcaico di cui già parlava Plinio che era l'incausto che era fondamentalmente un fissaggio a caldo della pittura sull'intonaco e dopo poche settimane questo cominciò già a colare all'epoca di Rubens che era andato a Firenze per copiare l'affresco questo affresco era già praticamente dissolto con grande dolore dei contemporanei nel frattempo Leonardo se era filato era andato alla corte alla corte francese quanto a Michelangelo si stufò e non ci aveva voglia perché Michelangelo forse vi ricorderete che in realtà si viveva come scultore e non come pittore quindi questa operazione insomma non ebbe un grande esito allora la Signoria incaricò anni dopo il Vasari l'iniziatore della storia dell'arte diede a lui l'incarico di raffigurare un'altra battaglia che era una battaglia che si svolse in Val di Chiana e il Vasari completò l'affresco e pare si dice tutte queste cose sono ovviamente di valutazione assai incerta Michelangelo Vasari completò il suo affresco e lo ricoprendo sembra quello di Leonardo e fin qui la storia nel frattempo gli storici dell'arte già all'epoca come Paolo Giovio lamentavano la ricadenza dell'opera insomma tutte queste cose passano i decenni passano i secoli e ci si interroga che ne è della battaglia di Anghiari di Leonardo una non battaglia perché insomma è un piccolo scontro tra Firenze e Arezzo scusate una non battaglia che diede luogo non a fresco perché alla fine la fresco non esisteva che però è fondamentale è un punto capitale della storia dell'arte e circa cinque secoli dopo l'incarico della signoria dei due grandi artisti entra in scena Matteo Renzi e questo è l'aspetto sensazionale della vicenda che vuole fare Matteo Renzi Matteo Renzi vuole vuole stabilire attraverso un'operazione sperimentale se esiste o no ancora questo che cosa fa allora incarica una società americana di praticare dei forellini nell'affresco di Vasari per vedere con un endoscopio per vedere se esiste ancora l'affresco di Leonardo la cosa interessante è che tutta questa impresa naufragata nel ridicolo come voi capite bene questa impresa si basava su che cosa si basava su un meraviglioso indizio direbbe Carlo Ginzburg e qual era questo indizio il fatto che nell'affresco di Vasari uno dei cavalieri portava una lancia con un cartiglio su cui era scritto cerco trovo in base a questo indizio ahimè piuttosto labile i consulenti di Renzi e Renzi medesimo immaginano che Vasari si volesse riferire al dipinto all'affresco di Leonardo quindi fanno fare questi buchetti e la comunità dei chi dici d'arte insorge la questione finisce e viene poi viene poi sostituita da un'altra storia meravigliosa di cui posso parlare poco in questo momento perché ho poco tempo sto per lasciare la parola a lei che è la storia del crocifisso ligno di Michelangelo Michelangelo è sempre in scena come ha scritto Tommaso Montanari la madre di Michelangelo e di Caravaggio le madri sono sempre incinta non fanno che produrre opere a distanza di secoli in questo caso il politico che si occupa direttamente di intervenire nella storia dell'arte è l'ex ministro Sandro Bondi voi lo ricordate il quale è un personaggio in realtà se uno va a vedere i dettagli di queste vicende che hanno a che fare con Michelangelo Gio II Renzi eccetera scopre che esiste tutto un mondo semi sotterraneo in cui gli artisti guardano il potere si interessano di potere tanto per farvi un esempio fu Bondi fu lo stesso Bondi anni prima che aveva presentato a Silvio Berlusconi lo scultore Pietro Cascella che creò un mausoleo berlusconiano ad Arcore ancora visitabile se uno voglia in marmo quindi c'è tutta una storia molto interessante che cosa emerge io qui sto per sto per chiudere la mia parte di intervento che cosa emerge da questa vicenda emerge fondamentalmente la grande affinità tra potenti artisti un'affinità naturalmente dialettica complessa che dà luogo a incidenti di percorso a equivoci ma estremamente produttiva perché è la signoria di Firenze che incarica i due grandi artisti di affrescare il Salone di Cinquecento sono loro che falliscono e poi scappano più o meno insomma Michelangelo va a Roma e Leonardo va in Francia non direi solo perché si vergognavano ma insomma perché avevano questa relazione se ne fregavano a un certo punto avevano in mente soprattutto la loro figura artistica successivamente sono gli amici politici che invece di occuparsi di coloro che dovrebbero occuparsi per definizione cioè la gestione dell'amministrazione della società si mescolano le questioni artistiche creando sconcerto come Renzi oppure come Bondi comprando mi pare per 5 milioni di euro un coce fisso farlocco che al più ne valeva 100 mila ma c'è ancora un'immagine io chiudo su questo meraviglioso che io vi invito a cercare in rete ed è l'immagine della presentazione del presidente napolitano del supposto cristolino di Michelangelo si vede una teca in cui c'è intorno il parterre di Ruà cioè il gran mondo della politica dell'epoca mi pare che siamo nel 2009 si vede da una parte c'è Napolitano c'è Rosi Bindi ci sono i presidenti delle due camere e c'è il ministro Bondi tutto contento per questa scoperta che ha creato lo sconcerto pochi mesi dopo il crucifisso fu smascherato e venne fuori semplicemente che era stata un'iniziativa semi truffaldina di un gallerista di Torino sono storie meravigliose queste perché pur nella loro rispetto ai drammi seri che stiamo vivendo noi in questo paese in questo periodo in questi giorni sono storie veramente secondarie però sono rivelatrici di che cosa di questo doppio sguardo che si stabilisce tra potenti artisti curiosamente tuttavia qui chiuso sul serio nonostante queste tensioni nonostante questa ambiguità nonostante questa atmosfera un po' strana che avvolge questa relazione fatta di denaro di invidie di eccetera eccetera curiosamente l'arte progredisce progredisce nel senso che ci fornisce nel bene e nel male sempre qualcosa di nuovo di interessante di divertente di cui parlare e di questo su questo parlerà la mia socia coautrice di libri Serena Giordano grazie grazie si colloca si colloca l'innovazione gli artisti perché l'arte abbia senso soprattutto perché il mercato si rinnovi perché poi alla fine della fiera ciò che conta ciò che comanda veramente il mondo dell'arte è il mercato perché l'arte anzi l'arte è la supermerce più merce dell'arte non credo che sia possibile perché dico questo adesso lo spiegherò più nel dettaglio dicevo quindi come si colloca l'innovazione che cosa significa per il potere e l'innovazione nel mondo dell'arte che cosa significa per gli artisti io credo che per chiarire cominciare a chiarire questo concetto si potrebbe usare una metafora per spiegare come funziona il mondo dell'arte e userei una metafora direi geopolitica immaginiamo il mondo dell'arte come uno stato chiamiamolo non so gli stati uniti dell'arte come preferite questo stato ha dei confini naturalmente e ci sono dei varchi dei punti in cui ci sono dei doganieri che decidono chi può entrare e avere la cittadinanza e chi invece deve rimanere fuori quindi un artista per diventare tale deve entrare all'interno del sistema e chi gli dà il timbro il permesso di soggiorno diciamo così per entrare il mondo della critica quindi i critici sono un po' i doganieri c'è un'economia naturalmente un sistema economico anche florido che è quello appunto il mercato dell'arte ci sono i cittadini legittimi previsti di documenti che sono gli artisti c'è un esercito che è l'esercito ovviamente dei galleristi e dei mercanti eccetera e fuori da questo territorio invece si collocano altre cose altri mondi i mondi ai quali poi va a tingere l'artista per cercare innovazione cioè si può definire innovazione nel mondo dell'arte ciò che al momento non è dentro il mondo dell'arte cioè qualcosa che prima non era arte che poi improvvisamente lo diventa e lo diventa attraverso un processo come lui parlava giustamente di aura di aurizzazione di qualcosa che come dicevo prima non possedeva un'aura cioè non possedeva un discorso in pratica faccio degli esempi pratici viene in mente Frida Kahlo ecco Frida Kahlo che era un artista a tutti gli effetti quindi cittadina del mondo dell'arte però faceva ogni tanto qualche incursione fuori in un altro mondo assolutamente escluso cioè di clandestini dell'arte che però aveva le stesse pratiche per esempio nel mondo dell'arte le stesse logiche la stessa creatività eccetera che il mondo dell'arte votiva Frida Kahlo cosa fa? a un certo punto va nel mondo dell'arte votiva come una turista come noi andremo in un paese che invece non ha reciprocità diciamo nel movimento e compra degli ex voto sapete cosa sono gli ex voto? degli oggetti votivi religiosi che i devoti dedicano in occasione di un miracolo di un evento che considerano straordinario a santi o madonna eccetera eccetera allora la Kahlo compra un ex voto quindi un oggetto che non è considerato arte a tutt'oggi l'arte votiva non è considerata arte interessa giusto qualche antropologo ma non i critici d'arte e lo inserisce nel mondo dell'arte compra dei souvenir come fanno i turisti li porta nel suo paese fa una serie di piccole modificazioni e quell'oggetto diventa un oggetto artistico ci sono degli ex voto di Frida Kahlo che raccontano anche la sua vicenda tragica l'incidente voi sapete una donna ha avuto una storia molto difficile e trasforma magicamente quell'oggetto da non arte a arte è evidente perché qualcosa sia arte è necessario che qualcos'altro non lo sia perché se no non regge la definizione un altro esempio è Jean de Buffet che si inventa l'art brux che poi si chiamerà outsider art che è sotto la cui definizione c'è una cozzaglia di cose assolutamente non omogenee dall'arte dei pazzi cosiddetti pazzi o malattimentali chiamateli come volete dei bambini dei cosiddetti ingenui definizione che non è facilissima l'arte dei nativi eccetera tutto questo enorme pacchetto piuttosto incongro viene inventato da BFF che cosa fa che esce anche lui da cittadino dell'arte perché era già un artista affermato esce dal confine dove va a fare un po' di turismo nelle cliniche per malattie mentali incontra un po' di schizofredici gli sottrae direi in modo anche piuttosto disonesto alcuni elaborati pittorico-grafici e dice benissimo secondo me questa cosa è arte l'ha adotta peraltro anche ampiamente nel suo di repertorio non solo ma come si suol dire cornuti e mazziati poveri matti perché in più lui riesce ad arrivare al punto di affermare che loro sono liberi quelli che erano chiusi dentro la clinica per malattie mentali perché essendo lontani dal condizionamento brutto e cattivo del sistema dell'arte erano artisti liberi il che suona anche un pochino paradossale visto che poverini erano inchiusi in una clinica quindi prendono questi oggetti e li fanno diventare arte e che cos'è uno dei motivi per poi per fare cosa per produrre oggetti per produrre la merce arte e la merce arte ha bisogno di un buon package cioè di una buona confezione per essere venduta anche perché all'interno del sistema il sistema diciamo economico vuole prodotti sempre nuovi prodotti sempre nuovi che siano in grado in qualche modo di rinnovare il mercato esattamente come per un dentifricio o un detersivo per i panni cioè su un dentifricio ci sarà scritto anticalcare su quello dopo ci sarà scritto sbiancante benissimo nei dentifrici dell'arte si parlerà di transavanguardia poi di inespressionismo eccetera eccetera quindi sono le confezioni per vendere il prodotto e questa una degli elementi più appetibili da sempre nel mondo e questo ci riallaccia al discorso del potere nel mondo dell'arte è la trasgressione se il prodotto è confezionato in un package in cui c'è scritto altamente trasgressivo e si vende molto di più c'è poco da fare questo lo ha capito benissimo forse il più grande genio dell'arte contemporanea di tutti i tempi che era Marcel Duchamp voi sapete che Duchamp scusate se faccio la maestrina ma dico in due parole che cosa ha fatto perché non è doveroso conoscere la storia del rinatoio magari qualcuno non la conosce prende un banale rinatoio lo rovescia lo firma lo propone in una esposizione d'arte e naturalmente è certo del fatto che sarebbe stato rifiutato è evidente che Duchamp sapeva perfettamente che quella provocazione perché ai tempi un rinatoio oggi per noi voglio dire anzi fa parte della preistoria dell'arte sto parlando del 1917 tutto ciò avviene nel 1917 quindi cent'anni fa praticamente quindi lui cosa fa prende questo oggetto incongruo perché viene dal mondo degli oggetti banali lui da buon artista perché lui aveva già lo status d'artista lo tenta di inserirlo certo che qualcuno avrebbe reagito e quella reazione avrebbe creato come dire un ulteriore package di forte trasgressione intorno al suo prodotto pensate che come sarebbe rimasto male il povero Marcel Duchamp se gliel'avessero accettato la storia dell'arte avrebbe preso completamente un'altra piega chi lo sa no no bello si ok dentro lo mettiamo nell'esposizione del 1917 sarebbe stato un colpo di scena mica da poco ma lui era assolutamente certo che come dire il gesto trasgressivo sarebbe stato molto gradito all'interno del mercato e che quindi da lì sarebbe nata poi quello che è nata tutta l'arte contemporanea l'arte concettuale eccetera da questo deriva poi tutta l'arte contemporanea da questo gesto no e la dice Luga sulla relazione con il potere cioè più è trasgressivo l'oggetto più l'artista propone qualcosa di trasgressivo qualcosa di antisistema quanti artisti io ne conosco parecchi potrei farmi miliardi di nomi basano il loro lavoro sulla la lotta al capitalismo no poi magari sono finanziati dalla Prada 4 miliardi di fatturato annuo no questa è la contraddizione oggettiva dell'arte la grande ambiguità del rapporto fra artista e sistema e direi che per fare un esempio super attuale io parlerei di street art che è un tema sul quale sia Alessandro che io siamo molto appassionati perché ci sembra in questo momento una delle forme di comunicazione non sapere se chiamare l'arte perché sta a cavallo più interessanti della contemporaneità che ha peraltro anche come dire un po' svecchiato il mondo dell'arte contemporanea che stava un po' muffendo nelle sue come dire dimensioni un po' autoreferenziali il mondo della street art nasce come sapete tutti non per farvi lezioncina ma due riferimenti negli anni 70 negli Stati Uniti nei Ghetti eccetera eccetera come gesto trasgressivo e non ha assolutamente nulla a che fare con l'arte cioè i primi writers semplicemente facciamo i loro tag eccetera eccetera esclusivamente per affermare se stessi cioè per affermare dire io esisto in questa città che mi esclude perché faccio parte di una minoranza che mi esclude perché sono povero che mi esclude perché vivo in un ghetto eccetera eccetera quindi quello era il senso gesto trasgressivo ciò che rimaneva sulla parete non aveva alcun valore per loro ma quello che contava veramente era il gesto era fare fare il bombing cioè riempire riempire il più possibile la città del proprio segno della propria presenza era un momento beato in qualche modo in cui c'era un rapporto fra arte e potere estremamente limpido perché i graffitisti si definivano orgogliosamente vandali sì siamo vandali sì il nostro gesto è un gesto vandalico dall'altra parte c'era il potere i sindaci il sindaco Lindsay che nella New York negli anni 70 fece proprio una battaglia spaventosa tanto per citarvi facendo follie inondando addirittura i vagoni della metropolitana con dei liquidi delle sostanze tossiche quindi intossicando mezza New York tanto per combattere questi terribili vandali quindi da una parte c'erano i vandali che dicevano sì siamo vandali dall'altra parte c'erano i poliziotti gli sbirri quelli che li inseguono che dicevano sì sono vandali anzi addirittura i vandali dicevano per noi le muse ispiratrici sono le forze dell'ordine senza di loro il nostro lavoro non avrebbe senso e quindi diciamo che è un rarissimo momento in cui la relazione fra arte e potere non è ambigua è chiara è evidente cioè c'è reciprocità e c'è chiarezza le cose si complicano subito perché i poveri writers o più o meno poveri perché poi alcuni sono diventati miliardari oltre a essere inseguiti dagli sbirri ma quello faceva parte del copione cominciano a essere inseguiti dai critici d'arte e dai galleristi quindi questa specie di girotondo felliniano come dire si arricchisce i nuovi personaggi nel 1975 infatti c'è la prima mostra di graffiti nel 1975 quindi fin dall'inizio fin dall'inizio il potere il potere il mercato dell'arte dice bene interessante questo fenomeno perché è ovvio che fra i vari writer c'è competizione la competizione porta all'innovazione degli stili l'innovazione degli stili comporta come dire una ricchezza di linguaggi interessantissimi questo piace molto al mondo dell'arte che però cosa chiede ai writers chiede di fare le stesse cose che fanno in giro per la città all'interno di una galleria d'arte quindi su carta su tela eccetera è assolutamente evidente che in questo modo la carica trasgressiva della street art muore cioè non ha più senso cioè è un gesto che non ha più senso e infatti i critici si arrampicano un pochino sugli specchi per mantenere il prodotto come dire interessante quindi continua a doverci essere scritto sopra il package altamente trasgressivo vandalaccio cattivo perché questo eccita il mondo dell'arte e quindi il mercato contemporaneamente però lo devono vendere quindi finiranno nelle gallerie d'arte vi leggo una cosa brevissima che a noi ha fatto molto ridere che viene dal catalogo della mostra del 1975 graffiti art la prima mostra di graffiti come si arrampica sugli specchi questo povero critico per mantenere entrambe le identità dice c'è chi ha predetto che se i graffitisti avessero cominciato a lavorare su tela fuori dai pericolosi confini dei binari della metropolitana la potenza della loro arte sarebbe diminuita non è stato così quando questi artisti lavorano per strada nella metropolitana il contenuto artistico del loro lavoro era casuale esisteva solo nello sguardo di alcuni osservatori per molta gente il graffito era solo vandalismo puro e semplice il deturpamento della proprietà pubblica e privata ora i graffitisti lavorano su superfici loro supporti che comunque sono destinati agli allestimenti di gallerie e musei il loro lavoro è legale quindi è la fine e aspira apertamente allo status di arte pur non essendo dissociato dalla sua origine vandalica che adesso non è più l'argomento centrale o è comunque una questione secondaria cioè si sente chiaramente un rumore di dita sugli specchi perché è ovvio che la questione non sta assolutamente in piedi la street art cresce evolve se ne parla e ha uno di tanti meriti della street art è che non se ne parla soltanto nei mondi dell'arte se ne parla anche nei mondi della cronaca perché? perché i pericolosi vandali la pericolosità sociale dei vandali eccetera eccetera ma la compromissione progressiva diciamo della street art all'interno del sistema dell'arte oggi ormai la street art è come il barocco non so come dire non è tante correnti della storia dell'arte cioè perfettamente inserita gli street art stanno tanto di divisa di permesso di soggiorno e stanno all'interno del sistema dell'arte con situazioni di un'ambiguità direi anche comica paradossale che ne so a Bologna assistiamo a un certo punto al seguente episodio vi ricordate la storia di Blu qualcuno forse l'ha seguita Blu è un bravissimo è una star quindi è uno dentro il sistema senza alcun dubbio molto intelligente ma dentro il sistema è molto bravo che di fronte alla proposta anzi più all'imposizione che la proposta di Fabio Roversi Monaco ex rettore dell'Università di Bologna di organizzare una mostra di street art a Bologna una grande retrospettiva con dentro tutti i grandi i banks eccetera lui dice no io non ci voglio stare allora Fabio Roversi Monaco dice ma come non ci vuoi stare le tue cose sono in giro per la città di Bologna noi le stacchiamo non sono più tue le hai fatte per gli altri quindi basta le stacchiamo e le mettiamo all'interno usando proprio la tecnica dell'affresco cioè dello stacco dello strappo e le mettiamo all'interno di un museo Blu si arrabbia moltissimo dice no non lo potete fare e cancella buona parte della sua opera che vi sta da fuori una situazione paradossale perché uno street artist famoso schierato politicizzato come Blu cancella i graffiti come i comitati con gli antigraffiti e Fabio Roversi Monaco che voglio dire non è un frequentatore di centri sociali ecco mettiamola così non è sempre proprio quel genere invece vuole valorizzare la street art per dirvi come voglio dire la situazione si è un pochino leggermente ribaltata in tutto questo chi rappresenta i nemici del vandalismo giusto ieri sera chiacchieravamo con un editore che diceva che appunto non vuole vedere questi brutti graffiti sotto casa sua eccetera ed era molto arrabbiato perché questo porta poi anche a una situazione di pericolosità sociale eccetera la teoria delle finestre rotte sapete questa idiozia clamorosa per cui si comincia con un graffito poi arriva la droga la criminalità la dissoluzione eccetera eccetera quindi adesso la situazione è di un'ambiguità folle cioè l'innovazione continua a esistere e poi chiuderò con una piccola nota ottimistica perché non vorrei sembrare troppo cinica nei confronti dell'arte però la situazione è piuttosto complessa perché ci sono ancora quelli che nessuno li ha avvertiti come il giapponese che non li hanno avvertito che la guerra è finita che continuano a fare la guerra ai graffiti vandali e non si rendono conto che quello è diventato come dire un prodotto artistico che ha un valore economico enorme ormai ci sono i Banksy tutti sapete chi è Banksy la star super star della street art con il vetro sopra a Bristol le prime cose che lui pare sia di Bristol le prime cose che lui ha fatto sono state coperte da un vetro per proteggerli da chi? dai vandali che è abbastanza divertente cioè un loop niente male quindi questo è il paradosso e gli amici di Banksy questa è una piccola chicca che vi voglio comunicare i suoi coetani che vivevano con lui a Bristol all'inizio quando lui ha cominciato come graffitista è stato arrestato come tutti gli altri cancellato come tutti gli altri hanno dovuto cambiare quartiere perché grazie alla presenza dei graffiti di Banksy quella zona è stata rivalutata è diventata meta di turismo e quindi non se la potevano più permettere quindi è interessante questo fenomeno come agisce poi sulla vita della città in senso stretto quindi dicevo da una parte ci sono questi che non li hanno avvertiti anche se un po' cominciano a avvertirli perché l'altra volta vedevo che questo delizio io li adoro gli angeli del bello sono a Firenze gli angeli del bello sono un comitato di cittadini sono signore molto eleganti con le perle eccetera che si mettono la tuta bianca e vanno a cancellare i graffiti in giro per la città perché vogliono una Firenze più bella allora loro erano tranquilli noi siamo dei censori facciamo questa cosa qui va tutto benissimo peccato che adesso qualcuno gli ha messo la pulce nell'orecchio e gli ha detto scusate ma tu magari cancelli dalla tua bella palazzina la tua bella palazzina di cui sei proprietario la mattina un brutto graffito cattivo vandalico poi te ne vai a dormire e ti svegli in preda a un incubo spaventoso e dici oh cavolo e se era un Banksy capite c'è qual è il problema persino loro cominciano a avere qualche dubbio quindi io credo che alcuni miei amici cari che si occupano di street art anche in modo molto serio dicono che la street art è morta e che quindi il potere ha fatto il suo lavoro l'ha logorato l'ha trasformato in questo tritacarne che è il sistema dell'arte in polpetta diciamo da vendere quindi non c'è più nulla da fare chiuderei con un piccolo esempio che invece dà speranza fra diciamo in questo mondo di star superstar Blue Banksy Obey che aiuta il presidente degli Stati Uniti a fare la campagna sapete quella l'ex presidente degli Stati Uniti scusate ma è l'inconscio che proprio non ce la faccio accettare l'ex presidente di Obama lo aiuta col manifesto famoso Hope vi ricordate e due giorni dopo viene arrestato perché fa un graffito nella metropolitana ma deve essere contento perché quel graffito lì lo tiene ancora in vita quel arresto lì ti ha ancora in vita la sua sempre meno credibile identità di graffitista come dire trasgressivo quindi invece la nota di ottimismo ve l'ho promessa e arriva che all'interno di questo mondo che è decisamente ormai compromesso non faccio il moralismo dobbiamo campare tutti sono contenta che per Blue che guadagni un sacco di soldi anzi forse una punta invidiosa facendo l'artista dicevo all'interno di questo sistema ormai compromesso ci sono però anche altri mondi poco noti perché poi il pubblico comune vede da una parte il vandalo pericoloso dall'altro quello che guadagna un sacco di soldi facendo i graffiti quindi sono un po' confuse c'è anche un altro mondo di cui non si parla mai che sono per esempio collettivi di artisti che girano per il mondo vanno per esempio in Italia c'è questo collettivo che si chiama FX che sono molto bravi che vanno nelle piccole città di provincia parlano con gli abitanti si fanno raccontare delle storie per esempio loro hanno fatto un lavoro bellissimo sulle officine reggiane Reggio Emilia le officine reggiane era una fabbrica ormai dismessa in abbandono che però era stato teatro di grandissime lotte sindacali delle operaie di cui nessuno aveva più memoria importava più nulla nessuno FX sono andati a cercare le anziane operaie sono fatte raccontare la storia alcuni di loro hanno voluto dare ancora l'ultima pennellata per dire abbiamo partecipato e hanno affrescato questa ex fabbrica come avrebbe fatto un cantastorie un tempo raccontando tutte le gesta di queste operaie un'operazione bellissima di ascolto e di attenzione per il territorio quindi un altro modo ancora naturalmente le officine reggiane diventeranno un ipermercato quindi questa cosa verrà distrutta a breve adesso FX sta facendo una se volete andare sul loro sito avrete tutti i dettagli quindi esiste ancora qualcosa che è innovativo e sfugge al potere per fortuna almeno nella street art ancora esistono delle energie buone delle energie interessanti per il resto è ovvio che il potere non può che compromettere l'arte e che gli artisti comunque non avranno mai un ruolo come dire non possono che avere un ruolo subalterno perché c'è una dipendenza dal potere e dal mondo del denaro fondamentalmente che è inscindibile oggi come i tempi di Leonardo e Michelangelo perché i passatisti che dicono ecco l'arte contemporanea è tutto un business un tempo invece andatevi a leggere i diali di Tiziano parla solo di soldi grazie grazie a tutti